Si insedierà domani mattina il nuovo consiglio di amministrazione del CUP e il consorzio universitario della provincia di Agrigento. Dopo l'elezione del management da parte dell'Assemblea dei Socii, adesso è arrivato il momento per il nuovo eletto presidente Ketano Armao e per i componenti dell'organismo di governo di iniziare a lavorare per programmare il prossimo anno accademico e ristrutturare il polo. Nel consiglio di amministrazione siederanno inoltre Giovanni Di Maida, vicepresidente riconfermato, Paolo Minacori e Giovanni Vaccaro. Inoltre Giovanni Patti è stato chiamato a far parte del collegio dei revisori dei conti. Per completare la governance la regione dovrà nominare un proprio componente all'interno del CDA. Nel precedente esecutivo, quello guidato dalla professoressa Maria Immordino, la rappresentante della regione nominata dall'assessorato all'istruzione era Olimpia Campo che sicuramente non verrà riconfermata essendo cambiati gli equilibri politici a Palermo. Era circolata un'indiscrezione circa la nomina nel CDA di Santino Lopresti, preside e presidente regionale della Lega Sicola di Calcio. Armao vuole accanto a sé persone di spessore e gente che abbia voglia di lavorare. Il consorzio universitario della provincia di Agrigento costituisce un punto di forza e di crescita per il territorio. Una provincia di frontiera nazionale ed europea, dice il mio presidente, qual è quella di Agrigento deve valorizzare la capacità di offerta culturale innovativa per creare sviluppo e dialogo. E in questo l'Unione Europea, lo Stato e la Regione dovranno profondere il proprio impegno. Lo afferma appunto il professor Gaetano Armao a seguito dell'avvenuta nomina a presidente del consorzio universitario della provincia di Agrigento. Dopo l'azione di risanamento compiuta, spiega Armao, occorre adesso puntare al rinancio dell'offerta culturale e formativa che dia concreta prospettiva di occupazione ai giovani agrigentini. Nei prossimi giorni presenterò ai soci, che in tal senso hanno dato esplicito mandato, il piano di sviluppo formativo del poro universitario e del relativo fabbisogno finanziario, facendo appello a tutte le istituzioni e alle forze imprenditoriali del territorio. Gaetano Armao è avvocato cassazionista con studio associato a Palermo e Roma, è stato consulente di Consiglio d'Europa, Commissione bicamerale antimafia, Governi nazionale e regionale siciliano, oggi della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Vice Presidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, è stato tre volte assessore della regione siciliana e da ultimo Presidente della Fondazione Unesco Sicilia. Insegna diritto amministrativo e contabilità pubblica all'Università di Palermo e diritto dell'economia all'Universitas Mercatorum di Roma. È proprio l'Universitas Mercatorum dove Armao insegna ed agrigento attiverà un corso di formazione per gestori delle crisi da sovraindebitamento, che sarà organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio, socio numero due del CUPA dopo il Comune di Agrigento. Una selezione di un numero massimo di 30 professionisti interessati a partecipare al corso è stata avviata dall'ente camerale guidato da Vittorio Messina e sembra essere la prova generale di quanto ci potrà successivamente fare presso la sede del Polo Universitario della provincia di Agrigento. Intanto resta il nodo dell'ex provincia che annuncia battaglia. Il commissario straordinario Roberto Barberi non ci sta ed ha intenzione di impugnare la delibera con la quale l'Assemblea dei Soci ha preso atto del recesso della compagina societaria del CUPA e di conseguenza la nomina del Consiglio di Amministrazione. Si tratterebbe per il commissario di una nomina illegittima in quanto nello statuto del CUPA l'ex provincia è socio fondatore. L'ex provincia si è disimpegnata ma deve ancora fare fronte al debito progresso. Avrebbe intenzione di rientrare. Il Presidente Armao non si scompone e annuncia. Presto incontrerò il commissario Roberto Barberi. Importante è anche il rapporto con l'Ateneo di Palermo per rivedere i rapporti di natura economica. Ho già avuto contatti con il Rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari aggiunge al Presidente del CUPA ma ci incontreremo ufficialmente dopo l'insedimento del Consiglio di Amministrazione. A lui spiegherò che abbiamo in mente di non avere solo un rapporto esclusivo con Palermo ma di aprire anche ad altre realtà accademiche che vorranno investire su questo territorio. Cercheremo una interlocuzione anche con altre università per ampliare l'offerta formativa. L'elezione delle Management del CUPA rappresenta il primo passo per il rilancio dell'attività dell'Università Agrigentina dopo la fuoriuscita dell'ex provincia. E gli studenti tifano per Armao tante speranze riposte in un professionista politico che adesso dovrà dimostrare di essere in grado di rilanciare il Consorzio Universitario Agrigentino assieme al socio di maggioranza, il Comune di Agrigento rappresentato dal Sindaco Lillo Firetto. Grazie. Grazie. Grazie.